Ben ritrovati, ormai siamo di fronte a vere e proprie stangate per il caro bollette che stanno colpendo soprattutto chi gestisce un esercizio pubblico tra barre e ristoranti. Oggi cercheremo di capire che cosa sta accadendo soprattutto nella città di Napoli, lo facciamo con Massimo Di Porzio che è il presidente FIPE Campania, la federazione dei pubblici esercizi oltre che titolare del ristorante Umberto. Presidente ben ritrovato e grazie come sempre. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora intanto le chiedo subito qual è la sua esperienza, insomma che bollette stanno arrivando anche rispetto al passato, che situazione state vivendo? Allora, diciamo la situazione è un po' a macchia di Leopardo perché ci sono aziende che hanno avuto incrementi fino al 500-600%, da premettere che comunque nei pubblici esercizi già l'energia è uno dei maggiori costi perché noi comunque siamo aziende che hanno delle attrezzature che consumano molto energia, diciamo sia gas sia elettricità, quindi mediamente le bollette erano già intorno ai 1000-2000 euro al mese per fornitura. Adesso diciamo sono arrivate anche a 8, 10, 12 qualche azienda e mi riferisco soprattutto a quelle aziende tipo le pasticcerie o per esempio le gelaterie o per esempio i panifici, cioè quelle che hanno dei forni che chiaramente assorbono tantissima energia. Anche noi chiaramente abbiamo vissuto un grande incremento come ristoranti e bar, però sicuramente è una situazione a cui va prestata la massima attenzione. Ne abbiamo presentato la settimana scorsa un'indagine diciamo di ConfuCommercio che evidenzia che c'è il rischio di chiusura diciamo su Napoli e provincia di circa 10.000 aziende che vuol dire diciamo una perdita di 30-40.000 posti di lavoro che diciamo è una cosa inimmaginabile diciamo in un momento in cui il turismo sta vivendo anche una ripresa Certo, intanto Presidente lei ha detto che alzare i prezzi potrebbe anche significare perdere i clienti è un rischio sicuramente ma servono soluzioni. A suo giudizio quali? Insomma quali interventi sarebbero opportuni? Allora sicuramente quelli messi in campo fino ad ora assolutamente sono insufficienti perché primo luogo si parla a volte per esempio di rateizzo, ma rateizzo di cosa? Cioè noi ogni mese abbiamo una bolletta, non si può rateizzare una bolletta ogni mese, quindi è impossibile Quelli che sono stati i crediti d'imposta appunto col decreto Draghi, aiuti diciamo bis e ter si sono rivelati diciamo poca cosa, pensi che per un'azienda che ha avuto un incremento di circa 40.000 euro di costi parliamo di un credito d'imposta di 1.500-2.000 euro quindi insomma voglio dire veramente le briciole non è possibile cioè va messo in campo sicuramente un progetto un po' come è stato fatto per il Covid con i recovery fund va messo in campo appunto un progetto diciamo una sorta di recovery riguardante l'energia e quindi vanno aiutate le aziende ma almeno con il 50% nell'importo delle bollette che ripeto parliamo di 8.000-10.000 euro al mese di spese che superano volte e volte di gran lunga i fitti quindi insomma voglio dire veramente ci sono aziende che sono alla canna del gas diciamo per usare un eufemismo e quindi è una cosa che va fatta anche urgentemente a me sembra che il nuovo governo abbia tra le priorità proprio questo insomma quindi va assolutamente fatto perché altrimenti diciamo subito dopo Natale nel 2023 vedremo diciamo un gran numero di aziende che saranno costrette a chiudere ecco staremmo staremmo chiaramente a vedere quali saranno gli interventi del governo intanto il comune di Napoli presidente ha varato il bonus utenze soprattutto per le persone a basso reddito ci sono state 3.000 domande in un solo giorno questo a suo giudizio è il segnale di una difficoltà che complessivamente vive la città certo lei prima diceva il fatto di aumentare i prezzi io dico sempre che noi diciamo il nostro punto di riferimento sono i consumatori quindi se soffrono i consumatori come stanno soffrendo anche loro perché certamente noi abbiamo bollette di 10.000 euro al mese ma loro hanno bollette di 300, 400, 500 che nell'economia di una famiglia vuol dire tanto quindi assolutamente c'è una situazione diciamo a 360 gradi vanno tutti sostenuti perciò dicevo occorre un piano diciamo un recovery cioè una sorta di piano che possa alleviare un po' tutti perché altrimenti anche le famiglie non ce la faranno arrivare alla fine del mese e il problema è che andiamo incontro diciamo all'inverno laddove i consumi purtroppo sia per un fatto di luce che tende ad affievolirsi sia per un fatto di freddo purtroppo i consumi tenderanno ad aumentare quindi insomma voglio dire veramente bisogna fare presto Ecco intanto c'è anche l'altra faccia della medaglia Napoli continua a vivere una grande stagione di rilancio sul fronte turistico Lei Presidente che bilancio traccia di questa che sembra un'estate che non finisce mai insomma il bel tempo sta favorendo ancora in questa fase l'afflusso di tantissimi turisti nella città Sì diciamo questa è la buona notizia che però come dicevo prima purtroppo è una grandissima contraddizione perché parlare di sempre negli studi nell'analisi del centro studio di confcommercio Napoli inizio 2022 rispetto al 2021 si parla di un 500% in più di incremento delle presenze turistiche quindi parliamo di numeri veramente rilevanti però contemporaneamente parliamo di 10.000 aziende che rischiano di chiudere quindi questa è una grande contraddizione bisogna assolutamente diciamo aiutare le aziende per superare questo periodo che speriamo sia transitorio e non strutturale e poi diciamo sulla città bene questi numeri però bisogna lavorare sicuramente sui servizi cioè nel senso che tante persone che arrivano a Napoli non sempre rimangono contente perché purtroppo ci sono dei servizi carenti io lo denuncio da tanto tempo insomma dai tassi ai pullman alle metropolitane che chiudono troppo presto alle funicolari che chiudono per manutenzione insomma voglio dire se davvero vogliamo diventare una città turistica dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo per dare dei servizi diciamo efficaci quindi perché altrimenti poi sarà un fenomeno sicuramente transitorio perché noi abbiamo la città tra le più belle del mondo secondo me diciamo diceva De Luca ieri ho letto di una battuta il presidente De Luca la paragonava a Monte Carlo per la bellezza di questo lungomare però sicuramente se il lungomare poi io vedevo ieri c'erano gli operai che toglievano le erbacce diciamo all'ultimo momento dalle aiole se poi il lungomare viene lasciato in queste condizioni o la villa comunale viene lasciata in queste condizioni sicuramente ci facciamo tutta una brutta figura quindi attraiamo turisti benissimo diciamo per l'economia del commercio dell'industria di tutti però cerchiamo di rendere anche la città molto più accogliente più bella da un certo punto di vista Certo, proprio in queste ore si sta polemizzando sulla questione rifiuti con il degrado che caratterizza molte zone della città città che deve fare i conti presidente naturalmente con l'emergenza criminalità siete delusi per come viene affrontata in questa fase questa problematica che cosa dice? Allora questo è un altro grandissimo problema della città dovuto anche al fatto che ci sono dei quartieri in cui c'è un alto tasso di criminalità penso ai quartieri spagnoli per esempio o anche al centro storico che sono immediatamente al ridosso delle zone turistiche quindi spesso diciamo è come il miele per le api voglio dire la presenza di tanti turisti nelle zone turistiche che attira diciamo queste bande che spesso diciamo fanno tanto danno all'immagine della città perché poi quello è il discorso voglio dire secondo me Napoli non è più insicura di New York o di Londra però purtroppo noi abbiamo questa nomea diciamo di città insicura o comunque di città sporca come lei diceva quindi anche qui bisogna fare uno sforzo io ritengo diciamo che la presenza delle forze dell'ordine ora siano esse guardia di finanza, carabinieri noi abbiamo tantissimi polizia locale sulle strade si ha uno dei deterrenti perché invece molto spesso diciamo poi questi episodi accadono quando loro si ritirano perché dalle 10 in poi diciamo normalmente la città viene abbandonata anche per un discorso di budget di straordinari eccetera secondo me bisognerebbe fare uno sforzo per cercare di presidiare almeno le zone turistiche anche durante le ore notturne perché quello sicuramente rappresenta un deterrente da un lato dall'altro secondo me bisogna potenziare il sistema delle videosorveglianze proprio nei giorni scorsi qui a Chiaia ci sono stati degli episodi diciamo di violenza che noi abbiamo con i carabinieri siamo riusciti appunto a contrastarli con i sistemi di videosorveglianza dei locali quindi secondo me un'integrazione tra le nostre telecamere che sono all'esterno dei locali e le telecamere pubbliche che vanno potenziate e messe al sistema sicuramente un ulteriore deterrente perché se io so che c'è una telecamera che mi riprende sicuramente avrò più difficoltà a fare un crimine certo è proprio così intanto Presidente come associazione di categoria che tipo di rapporto avete istituito con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manfredi? Allora anche qui luce e ombre cioè nel senso che ci sono degli assessorati e dei settori penso all'ex questore di Jesu, all'assessore armato, all'assessore Marciani al lavoro con cui abbiamo dei contatti quasi giornalieri perché poi sono magari le problematiche più pressanti per il nostro settore come quello della movida e l'occupazione di suolo o del turismo stesso o del lavoro che è un altro problema grossissimo oggi come oggi per i pubblici esercizi dall'altro devo dire la verità ho l'impressione che l'amministrazione vuoi perché ha trovato effettivamente una situazione un po' disastrata diciamo e quindi ha dovuto ricostruire e quindi sta cercando di vedere a capo di tutta una serie di cose che magari erano state in un certo senso abbandonate con altri settori penso per esempio un po' al commercio penso diciamo a quelli che sono i servizi appunto della città che dicevo prima non abbiamo avuto grandi riscontri quindi speriamo che appunto anche in previsione della stagione di Natale che è importantissima per la nostra città ci siano diciamo dei rapporti più io dico non dico giornalieri ma almeno settimanali perché sicuramente io dico sempre che i pubblici esercizi accendono la città io leggevo appunto l'intervista al senere Comanfredi che dichiarava che non ci saranno le luminari o comunque saranno circoscritti alcuna zona se noi condividiamo diciamo questo discorso del risparmio energetico da un lato o dall'altro però sicuramente una città, un Natale senza luci sarà sicuramente sempre al Natale del 2020 insomma è il Natale della pandemia quindi accendiamo le luci dei negozi cioè nel senso cerchiamo di fare delle attività come posso dire degli eventi che possano poi ravvivare la città altrimenti corriamo il rischio che le persone diciamo che sono sempre attratte un po' da questa atmosfera natalizia appunto di felicità, di gioia e mettono un attimo da parte tutti i problemi giornalieri corriamo il rischio che queste persone appunto non vengono proprio in città Bisogna resistere allora Presidente per chiudere questa nostra intervista quali sono le prospettive soprattutto per chi è in trincea come voi insomma con i pubblici esercizi qual è la prospettiva per la città dal suo osservatorio? Allora i numeri sono ottimi come dicevo cioè parliamo da iniziando più del 500% di presenze quindi almeno per quanto riguarda il settore del turismo c'è un grande ottimismo per quelli che saranno i numeri poi di Natale, Capodanno che normalmente sono già dei periodi abbastanza forti per la città perché essendo una città d'arte è votata questo tipo di turismo però l'importante appunto è che si risolvano quelle contraddizioni di cui parlavo prima quindi la crisi perché voglio dire se c'è crisi non si riesce neanche a godere bene del lavoro che uno fa oppure se voglio dire se i costi energetici rimangono a questo livello ci sarà sicuramente uno scoramento da parte degli operatori perché sì lavori però lavori per pagare le bollette io penso che non sia qualificante non sia etico da un certo punto di vista che le persone che nel nostro settore dedicano tante volte appunto il sabato, la domenica tutti i giorni di festa, Natale, Capodanno al lavoro proprio per accogliere i tanti turisti presenti in città credo che non sia giusto che debbano poi diciamo raschiare il barile nonostante il tanto lavoro e trovarsi poi a fine mese magari in perdita con questi costi energetici così alti certo perfetto abbiamo concluso grazie Presidente per questa intervista e buon lavoro grazie a lei e saluti a tutti gli spettatori grazie allora abbiamo dunque ascoltato la testimonianza di Massimo Di Porzio Presidente della Federazione Pubblici Esercizi della Campania titolare del ristorante Umberto una testimonianza davvero molto significativa si chiude qui per oggi la nostra rubrica grazie in regia ad Aldo Fenizia grazie a voi che ci avete seguito arrivederci